L'effetto europei non ha scatenato solamente un'incommensurabile gioia ed incontenibile euforia in tutto il paese, ma purtroppo ha provocato anche una preoccupante recrudescenza del virus. Nell'ultima settimana si è infatti registrata un'impennata dei contagi in ben 19 regioni del paese. In Toscana, negli ultimi sette giorni, si è evidenziato un aumento di circa il 45%, anche se il numero di ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva e decessi, resta stabile. E se da una parte la campagna di somministrazione procede a buon ritmo, con il 65% dei cittadini già vaccinati con la prima dose, dall'altra il piano sin cui delineato dalle autorità competenti per fronteggiare l'emergenza ed il suo possibile, probabile, acuirsi, potrebbe rivelarsi insufficiente la paura più grande, naturalmente quella delle varianti su tutti la delta, che complici anche i recenti assembramenti andati in scena per l'europeo, stando a quanto riportato dagli esperti, tende ad aggirare parzialmente la copertura dei vaccini. Le grandi partite, i grandi eventi frequentati soprattutto dai giovani che non sono ancora vaccinati e che quindi possono veramente essere a rischio di contrarre l'infezione e soprattutto anche di trasmetterla l'infezione. Anche dall'Agenzia Regionale di Sanità fanno sapere come sia ormai evidente il fatto che ci si trovi di fronte ad una tendenza di aumento dei casi da inizio luglio. Il fenomeno riguarda principalmente le prime decadi dai 10 ai 29 anni ed è abbastanza analogo a quello della precedente estate, solo che stavolta succede, contrariamente alle previsioni, con un mese d'anticipo.